Need for Speed Heat è stata una delusione ma anche divertimento. Se volete saperne di più, ascoltate questa recensione. Non è dei soliti punti di analisi il problema, ma sostanzialmente del gameplay. Parliamone dopo. Innanzitutto la grafica, che oggettivamente spacca. Rimane un po' static, ovvero che la presenza del vento è inesistente, però alla fine si tratta di un gioco di guida, quindi è una cosa relativa. L'ambientazione, beh, è una città molto variegata, con più punti da fuoristrada, e devo dire che nel complesso rende bene. La colonna sonora è... personale. Probabilmente con l'avanzare della mia età e cambiamenti musicali non riesco più a ritrovarmi. Avrei preferito ci fossero stati Tokyo Hotel per tutto il gioco, ma si sa, si invecchia, quindi qui si va a gusti. È solo un sottofondo per il gioco, comunque. La longevità della campagna principale è ridicola. Si attesta sulle 5 ore scarse. Ci sono altre storie chiamate storie di guida, ma è inutile chiamarle storie. Sono solo missioni per farti sbloccare nuovi tipi di guida. Nuovi tipi di guida apprezzati, ovvero su strada, su pista, derrapate e fuoristrada. Come storia è molto, ma molto semplicistica, quindi completamente dimenticabile, ma devo dire di aver apprezzato veramente tanto i filmati e il proprio avatar vero e parlante. Ed infine il gameplay. Non ho apprezzato affatto la questione giorno e notte. Sostanzialmente a che serve? Le missioni campagna sono di notte. Di giorno si hanno la secondaria, in sostanza. Ma quindi non era più sensato fare una mappa nella quale cambiasse l'orario. Quando serviva una missione notturna bastava che cambiasse da solo. Dal punto di vista di guida è divertente, ma fatto male. A parte che in 5 ore e due bug invalidanti non li accetto. Ma poi tiri giù alberi, pali, muri di pietra. Ma le persone no, sono invincibili. Le auto sono tutte bellissime e la personalizzazione è ai massimi livelli. Quindi quello che più dovrebbe interessare a un fan è ok. Insomma, per farla breve, Need for Speed Heat è divertente. Si basa su gare legali per far soldi di giorno. E in legali per accumulare la reputazione di notte. Ed andare avanti. Inutile dirvi che senza le secondarie non si può progredire nella campagna principale. Alla luce dei difetti analizzati, ma anche dei pregi, consiglio Need for Speed Heat come un passatempo, ma non come un gioco principale. E consiglio di aspettare la prima offerta di 20 euro per comprarlo, ma non di più. Alla luce dei difetti analizzati, ma non di più.